Finisce senza vinti né vincitori, eppure senza reti l'atteso derby del Mariani Pavone, che metteva in paglio punti pesanti in chiave play-off. Il notaresco conserva il terzo posto, il Pineto allunga a sette la propria serie utile. Non ci sono state tante emozioni, alla fine il pari è sicuramente giusto con gli ospiti che hanno giocato quasi mezz'ora in dieci uomini. I due tecnici devono far fronte alle assenze, Amaolo recupera Ciarcelluti e Stefano Amadieo che partono dalla panchina, fuori per squalifica Pomante. Il collega Cudini deve far fronte alle defezioni di Fabriani e Dalmazzi, ovvero i due quarti della difesa titolare, fermati dal giudice sportivo, e per questo arretra Candellori, promuovendo titolari Rucci ed il giovane Cancelli. Prima del via caloroso abbraccio tra i due presidenti, Silvio Brocco e Salvatore Di Giovanni, che hanno visto la gara 1 fianco a fianco, a testimonianza di una grande amicizia che dura nel tempo. I padroni di casa si lasciano preferire per la costanza nella manovra offensiva, ma la prima emozione arriva al 26esimo, in concomitanza con l'ingresso in tribuna del presidente della provincia, nonché sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura. Azione insistita del Pineto, con conclusione dal limite di Esposito, che trova l'opposizione della difesa rosso-blu. Allo scoccare della mezz'ora, anche la prima risposta della squadra di mister Cudini, con il colpo di testa di Minella, debole, che Remo Amadio accompagna sul fondo. Ben più pericoloso qualche giro di lancette e più tardi il tentativo di Cruz, sull'altro lato del campo, con Monti che si fa trovare comunque attento. L'estremo difensore disinnesca anche il tentativo di Marianeschi al 35esimo, dopo un bel colpo di tacco smarcante di Esposito, mentre termina sul fondo il tocco, da pochi passi, di massa al 38esimo, a termine di un'azione sviluppatasi sulla corsia di sinistra. Il Notaresco prova ad allentare la pressione con un guizzo del capocannoniere Minella, al minuto 40, respinto da Remo Amadio. E' questa l'ultima emozione della prima frazione, l'avvio di riprese e tutto degli ospiti del presidente Di Giovanni, che ci provano subito, dopo 50 secondi, con Candellori. Remo Amadio alza in angolo e con il guizzante Cancelli, qualche istante più tardi, con il numero uno di casa, sempre attento. L'intensità della sfida scema un po', ma al minuto 20, possibile svolta dell'incontro. Minella, ammonito nel primo tempo, infatti viene sanzionato un'altra volta e lascia i suoi in dieci uomini. Prova ad approfittarne subito il pineto, ma Monti al ventitresimo è bravo a negare la gioia della rete ad Orlando, spintosi in avanti per sfruttare un calcio di punizione. Il numero uno notareschino compie un superintervento due giri di lancette più tardi, quando respinge il tiro, praticamente a colpo sicuro, del neoentrato Festa. L'ingresso di Cercelluti crea qualche grattacapola a difesa del notaresco e dal trentanovesimo è un'uscita improvvida di Monti a creare apprezzione, ma Capitan Salvatori sbroglia tutto. E comunque il notaresco a chiudere in avanti grazie all'iniziativa del fresco laringe, ma di emozioni vere e proprie non ne arrivano e il fischio finale sancisce lo 0-0.